Oggi Roma ci ha regalato una giornata bellissima, di sole, speriamo di sia di buon auspicio, che splenda il sole sul cinema, anche oltre che su Roma. È un bellissimo film, quindi sono molto fiera del ruolo, Elisa ha fatto un bellissimo lavoro, gli attori sono su tutti stupendi, quindi sono molto orgogliosa di essere una parte di questo film. Romantico, però anche con dei lati molto più segreti e scuri, insomma entra anche nella psicologia di noi umani, dei nostri segreti, almeno per il mio personaggio Steve è molto vero questa cosa. Romantici, anzi cerco proprio nelle categorie, quando vuoi vedere qualcosa a casa in tranquillità, cerco sempre la categoria Romantico, quindi sì, non vedo loro, a parte che poi loro, insomma, Benjamini e Bella stanno insieme per davvero, quindi è ancora più eccitante. È un'esperienza unica, anche perché poi faccio un personaggio americano, quindi lavorare anche su quel tipo di cultura e poi papà di Bella ti capita una volta nella vita, direi. Cominciare a vedere anche la gente che va al cinema è una cosa molto importante, io sono contentissima. Volevamo un progetto internazionale dedicato, diciamo, ai young adult, come si dice, come target. dell'Otus di Belardi ci ha proposto questo progetto e devo dire che è un progetto molto interessante. Felicissimi di presentare questo film in lingua originale, felicissimi della sala. Beh, noi amiamo, siamo molto felici di vedere la scuola molto, 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 molto grande. La storia è molto vera, nel senso che siamo innamorati nella vita e ci siamo rinnamorati nel film ed è bello vedere come questo si vede chiaramente nelle grandi scale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.